Siamo giunti al TQQ della serata, un confronto alla pari sul doppio chilometro, cavalli di 4 anni, 14 al via lo schieramento, 1 Zagorit, 2 Zedocronos, 3 Zaquild, 4 Zeta dei venti, 5 Xenox B, 6 Zori, seconda linea 7 Zubieti CC, SM, 8 0 1 MMG, 9 Zante di 9, 10 Zafiro Top, 11 Zolabad, 12 Zitto Zitto GSO, in terza fila 13 Zeni del Duomo, 14 Zildown Slide SM, che è anche il favorito della corsa. Mario Minopoli nel sediolo, vediamo le fasi di lancio, parte piano Zori, in avvio, c'è lotta fra Zaquild e all'esterno Zeta dei venti, che si avvantaggia, non riesce però ancora a sopravanzare Zaquild che rientra bene lungo la corda, è partito molto bene, Zante di no. Mentre all'esterno c'è anche Zenox B, poi la terza corsia addirittura di Zitto Zitto GSO, che però si getta di galoppo. L'errore di Zitto Zitto GSO sul finire della curva, e ora ne approfitta Zenox B per progredire all'esterno, Zenox B va... Mentre c'è già in terza ruota la progressione di Zeni del Duomo, che insiste, va su Zenox B, ma sbaglia anche Zeni del Duomo. Quindi due cavalli attesi... Numero 13, Zeni del Duomo, squalificato... Zitto Zitto e Zeni del Duomo hanno sbagliato, rimane così all'esterno. Zenox B con in schiena Zeta dei venti, in terza posizione alla corda c'è intanto 0-1 MMG, intanto 45-2 per i primi 600 di gara, andatura sostenuta. Quella imposta da Zaquild che continua a guidare fin dal via all'esterno Zenox B alla corda Zante di no. Mentre in terza pariglia esterna c'è Zolabad e si affaccia ora in terza ruota Zildown Slide SM, anticipato proprio da Zolabad. Intanto 1-16,3 per il chilometro, molto sostenuto il primo chilometro di Zaquild che continua a guidare quando manca un giro alla conclusione. All'esterno è sempre Zenox B, terza ruota per Zolabad che ha in schiena il favorito Zildown Slide SM. Cavalli ora sulla penultima curva con in vantaggio Zaquild all'esterno però avanza Zolabad. La corda c'è Zante di no, in terza ruota Zildown Slide SM. 600 alla conclusione, ora si ingamba centropista Zildown Slide SM mentre si avvantaggia Zolabad e cala Zaquild. Avanza all'esterno, Zildown Slide e anche Zafiro Top progredisce. Poi c'è anche Zante di no all'interno, completamento della curva finale, è il numero 10 Zafiro Top che sembra più efficace nella sua progressione. Entra ancora in vantaggio Zolabad, ultimi 120 metri di gara con Zolabad in testo, ora però ha sbagliato anche il numero 10. E nel finale è Zante di no che si avvantaggia per venire a vincere su 0-1 MMG. Al terzo finisce il numero 14 Zildown Slide SM, al quarto Zolabad e per il quinto dobbiamo andare a rivedere naturalmente. 1-15-8 il raguaglio finale. La posizione è trovata subito al via da Zante di no, Francesco Virzin, sediolo che nel finale scatta in open stretch e mette tutti d'accordo. Mentre per il secondo andiamo a rivedere le fasi finali, c'è 0-1 MMG che finisce fortissimo a centropista. Il numero 8, eccolo ora inquadrato dalle telecamere, conquista il secondo posto. Al terzo è il numero 14 Zildown Slide SM che piega Zolabad, mentre per il quinto lasciamo passare il galoppante Zafiro Top. Per il quinto è ancora il numero 5 Zenox B a distanza che precede il resto del gruppo. Successo quindi per il numero 9 Zante di no, Francesco Virzin in sediolo. La quota al totalizzatore di 8,79 per questa fila di uronometro in allenamento da Paolo Pietro Paoli. Inizia una lunghezza abbondante su 0-1 MMG che finisce bene comunque a centropista. È soltanto terzo il favorito Zildown Slide SM. Grazie. Grazie. Grazie.